Fondina ascellare a estrazione orizzontale. Porta caricatori sul lato destro, fondina sul lato sinistro. La fondina ambidestra perché entrambi possono variare l'assetto sganciandoli con questi piccoli moschettoni. Fondina costruita con materiale in cortura molto alleggerito. Sgancio a velcro, ottima capienza per larghe auto, Sigsauer, Beretta, raccolta 1911. Sgancio anche a bottone automatico, passante laterale per agganciarlo in cintura, sia sulla fondina che sul portacaricatori verticale. La fondina è regolabile in altezza sia avanti che sul retro tramite cinghiette. Il portacaricatori ha un'asola elasticizzata, una fettuccia elasticizzata chiusa a velcro che si può regolare in altezza. È rovesciato per agevolare l'estrazione veloce. All'interno della spalla è rivestito in un tessuto particolarmente morbido per non rovinare l'abbigliamento che si ha in quel momento. A presto! A presto! A presto! A presto! A presto!